Ospite a Liberi Tutti, io vi suggerisco di stare con noi per scoprire, conoscere magari una realtà, qualche cosa che esiste, ma esiste storicamente, culturalmente, proprio nella nostra città e dalla nostra città per anticipare un evento molto molto interessante, molto importante. La realtà è quella della Facoltà di Ingegneria, quindi vi presento subito il nostro ospite, l'ingegnere Paolo Cremonini, della Fagioli, Operating Officer, mi dicono, per quanto riguarda il suo incarico, ma lei è qui come ingegnere, come espressione, una delle tante espressioni della nostra Facoltà di Ingegneria, domani a convegno per dire quanto sia stata e sia importante l'ingegneria genovese alla Genovese per il mondo. Per il mondo intero, esattamente. Per i cinque continenti. Esattamente. Ingegneria, così si sente questa matrice, porta lei, porta in giro per il mondo, immagino, questa sua appartenenza, è importante, no? È molto importante. Infatti l'idea del convegno è proprio nata da, direi, quasi un'esperienza personale. Sono 22 anni che lavoro fuori Genova, io mi sono laureato a Genova, sono nato a Genova, e lavorando sia in Italia che all'estero ho avuto occasione di incontrare aziende genovesi che tenevano alto il nome di Genova nel loro campo della costruzione, dell'ingegneria, dell'esecuzione di progetti, ma anche singoli ingegneri genovesi che spesso occupano posizioni di vertice in aziende nazionali e internazionali. Sono due realtà, quella delle aziende genovesi all'estero, o comunque in Italia, e degli ingegneri genovesi, di cui se ne parla poco, sono poco pubblicizzate. Già il ruolo dell'ingegnere nella società è abbastanza poco noto, perché è essenziale. Siamo oscuro, cioè ingegnere sappiamo cosa fa. Sappiamo cosa fa, però ha una caratteristica base, che non è mai in contatto con il fruitore di quello che costruisce, che progetta. In realtà tutto ciò che non è natura, in qualche modo, è legato all'ingegneria. Però non c'è un contatto diretto come magari con un medico, un avvocato, un economista, una banca, non c'è un contatto diretto. Sappiamo dove siete, ma forse non come fate, non cosa fate, ma come fate. Ma come facciamo. Infatti l'idea quindi è quella, domani, di dare un'informazione generale, non agli addetti ai lavori, non è un convegno dedicato agli addetti ai lavori, non è un convegno tecnico, è dedicato alla città ed è a diffusione nazionale. Sono stati mandati più di 10.000 inviti in tutta la nazione, molte persone che partecipano sia come relatori, che come alla tavola rotonda, ma anche come uditori, vengono da fuori Genova, proprio per cercare di tenere alto il nome di Genova nell'ingegneria, ma soprattutto nel campo del lavoro. Di lavoro in questo periodo ci sente parlare tantissimo, ma in termini negativi, problemi sindacali, problemi di mancanza di lavoro, problemi di ogni genere. Noi domani non parliamo del problema lavoro, parliamo del lavoro in termini positivi. Noi vogliamo dare un messaggio positivo alla città, alla nazione e soprattutto ai giovani. È un convegno dedicato alla città e soprattutto ai giovani. I giovani che stanno frequentando in questo periodo l'università e quelli anche che si stanno apprestando ad entrare nel mondo del lavoro. Sono bombardati da messaggi negativi e la situazione non è certa positiva, tra recessione, crisi economico-finanziaria, il declino di Genova che dura da anni e questa situazione mondiale certo non aiuta. Mi sembra quasi che ci sia una soffazione, un'abitudine a questo declino di Genova. e c'è un'aspettativa da parte di tutti che qualcun altro dovrebbe fare qualcosa. In realtà ciascuno di noi deve fare qualcosa, nel suo piccolo o nel suo grande. Non so se lei ha seguito, lei stava aspettando appunto di entrare nei nostri studi, le telefonate si è sentito. La gente dicevano, le persone ma più umili, ma come tutti noi, queste cose che lei sta dicendo, così come questo bisogno però poi di impegnarsi in prima persona, perché è generico dire, ah, ma intanto poi la politica, ma intanto poi, e noi cosa facciamo? Che cosa ci dà la molla per questo? Mi sembra di capire, noi stiamo vedendo adesso Palazzo Ducale, peraltro una opera di ingegneria, insomma, assolutamente interessante. Sembra la Casa Bianca, visto, possiamo rivederlo Beppe in questa Dialoghiamo con la regia? Eh, insomma, sembra, anzi, direi che è migliore per tanti versi. E quasi, mi sembrava di cogliere nelle sue parole, ingegnere, un ringraziamento a Genova per quello che vi ha dato. Assolutamente, assolutamente. Io ho studiato a Genova e quello che ha dato a me, come a tantissimi altri, la Facoltà di Ingegneria è eccezionale. La qualità di quello che riesco a fare in giro deriva dai miei studi, dalla formazione che ho ricevuto a Genova. Lo stesso Ordine Ingegneri, che è l'organizzatore di questo convegno, è parte molto proattiva sul territorio genovese, ligure, e anche in ottimi rapporti con tutti gli ordini nazionali, proprio per tenere alto il livello, il nome, il buon nome dell'ingegneria e soprattutto, in questo caso, dell'ingegneria genovese. È un messaggio positivo, di speranza che si vuole dare. Ospiti da tutto il mondo, voi sarete i padroni di casa? Noi saremo i padroni di casa, come Ordine Ingegneri, come Facoltà di Ingegneria. Il convegno è organizzato in due parti. Nella prima parte, 18 relatori presenteranno la loro eccellenza. Sono tutti relatori, ingegneri, laureati a Genova. Possibilmente genovesi, ma comunque laureati a Genova. E hanno un tempo molto limitato, ciascuno, per presentare la loro eccellenza. È anche un po' una sfida quella di avere un tempo molto limitato per dare un messaggio. Ma si è voluto specificatamente scegliere questa soluzione. Innanzitutto per dare più spazio a tante persone. Secondo, per cercare di dare solo dei messaggi. Poi se persone fossero interessate ad approfittire dei temi, c'è spazio successivamente per entrare in contatto e parlare con tutti. Ma si vuole dare un messaggio ad ampio raggio. E tra l'altro i relatori sono genovesi, tutti, ma che lavorano o in aziende genovesi o in aziende nazionali. Io stesso lavoro fuori Genova. La seconda parte del convegno invece è una tavola rotonda. È un momento di riflessione. Quindi dopo un momento di condivisione dell'informazione delle eccellenze di ingegneria genovese, abbiamo voluto avere un momento di riflessione con otto persone, fra amministratori delegati e presidenti di aziende genovesi. Quindi direi il meglio che può partecipare, anche in termini di disponibilità. Alcuni purtroppo non erano disponibili. L'argomento della tavola riunione è Genova, quale futuro? Nessuna occasione migliore domani di avere, dopo aver condiviso l'eccellenza genovese nell'ingegneria, un messaggio da parte dei leader delle aziende genovesi, proprio per condividere un po' i passi futuri. Di nuovo un messaggio verso i giovani. La prima parte, quindi quella dei relatori, è moderata dalla professoressa Paula Girdinio, che è la presse della Facoltà di Ingegneria. La seconda parte, quella a tavola rotonda, è moderata dall'ingegnere Carlo Stagnaro, che è il direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni. È un ingegnere genovese laureato a Genova. Quindi un'altra rappresentanza nazionale, conosciuta in tutto il mondo, genovese. Ecco, ingegnere Cremonini, ricordiamo, ci siamo già detti che questo convegno a Palazzo Ducare è aperto alla cittadinanza. Mi raccomando, cercate di non incutere timore nella gente, nel pubblico. Raccontatevi bene perché deve essere, credo, esaltante fare un lavoro come il vostro, confrontarsi con il mondo, portare la nostra piccola Genova in clave nel mondo. Ma mi raccomando, cercate, veramente, trovate questo dialogo con i cittadini che vogliono, per illuminare naturalmente tutti noi, arricchire tutti noi. Certo, ha toccato un tasto eccezionale. L'ingegnere, l'ingegneria difficilmente sa vendersi. Ci sono associazioni professionistiche, aziende, che hanno grande capacità nel comunicare, nel vendere, per natura, sia il genovese, sia magari l'ingegnere, non è facilitato, non eccelliamo in comunicazione. Quello di domani è proprio un momento in cui vogliamo comunicare. Tutte le persone che partecipano come relatori o la tavola rotonda hanno condiviso questo obiettivo, quello di comunicare in modo semplice. Tant'è vero che, come dicevo prima, l'invito è stato mandato ad amplissimo raggio. Il sito web che si è visto prima è già stato visitato quasi da 9.000 persone in poche settimane. Oggi, tra l'altro, esce l'informazione su molti quotidiani nazionali. Il convegno pubblicizzato è, ci sono link anche su moltissimi siti di aziende nazionali, addirittura la Confindustria, l'Associazione Nazionale Impiantistica Italiana, Anim. Quindi c'è una grande diffusione, c'è una grande aspettativa. Tutti sono invitati a partecipare. È molto importante perché la riteniamo una grande occasione per Genova. Sta a noi valorizzarla, cogliela al volo o sprecarla. Peraltro noi siamo orgogliosi perché siamo, come quando si dicevano in casa delle persone, siamo consapevoli che poi i suoi colleghi che verranno da ogni parte del mondo faremo vedere il meglio della nostra città e, sinceramente, sappiamo già che vedranno delle cose, che porteranno in sé delle cose belle. Le chiedo, ingegnere, non ci interessa il dato politico. Lei gira per il mondo, ritorna a Genova, poi riparte e ritorna a Genova. Lei ha già detto qualche cosa, cioè che probabilmente dovremmo correre un po' di più, dovremmo essere un po' più dinamici nel nostro piccolo genovesato, no? Mi sembra di capire, non le chiedo, non ci interessa una disamina politica. Non mi azzardo. Ma non mi inguardi, non ci interessa. Ma lei che va e poi ritorna, poi riparte e torna dopo un po' di tempo e vede quel lavoro che è ancora lì, non lo so, e vede quella struttura che è ancora lì e che potrebbe, è vero che mettiamo un po' di... Il problema di base è la mancanza di... Sto generalizzando un poco, ma di positività. A Genova sappiamo che purtroppo la fa la padrone del Mugugno. È un detto, ma in realtà è così. In America come fa? In generale, in America, ma anche nel Fariste, io lavoro anche molto nel Fariste, in Australia, sono molto positivi, sono molto più sereni, ci mettono un decimo, un centesimo del tempo a prendere decisioni. Perché non si può? Perché in Italia c'è un'abitudine, perdoni. Non si può. È vero, mi dica se sbaglio, mi dica se sbaglio. Io vorrei mettere, non si può. Esattamente. E allora inizia una lunga trattativa. In Italia, e Genova eccelle in questo, io sono genovese, quindi mi posso permettere di parlare così. Quando, se nessuno propone nulla, se nessuno fa qualcosa, c'è città, c'è serenità. Chiunque proponga una cosina, tac, saltano fuori 8 mila commenti negativi, negativi, non propositivi. L'altro giorno passeggiavo, adesso un aneddoto, per un piccolo comune ligure, non faccio il nome, ma nella bacheca comunale, nella piazza dove si voleva illustrare alla cittadinanza, attività del comune, eccetera, una parte della bacheca era dedicata all'angolo del Mugugno. Secondo me non è corretto, perché era proprio definita così. Si alimenta il lato negativo, bisogna spronare il lato positivo delle persone. Ma mi ascusi, quando c'è da fare, il ponte, non lo so, mi direi. Sì, impianti, soprattutto i nostri impianti. Vabbè, sì, sì, troviamo. Tempi decisionali ridottissimi. Io penso che se uno straniero venisse a conoscenza delle lungaggini che stanno affliggendo le infrastrutture genovesi di cui si parla, e non le nomino per evitare, però le conosciamo bene. Allora, torniamo a questo convegno. Abbiamo ancora due minuti, ingegnere, ingegnere Cremonini. Beh, ci saranno, insomma, Genova sarà domani al centro dell'attenzione, quindi ha aperto alla cittadinanza, anche al ragazzo, perché obiettivamente forse uno dei pochi lavori immediati quando si esce dalla facoltà è il lavoro che ti chiamano. Esattamente. Tra l'altro abbiamo colto l'occasione, nell'ambito del convegno, ci sarà la premiazione da parte dell'Università di Genova in generale ai migliori studenti dell'intero Ateneo. Questa è un'occasione importante per innanzitutto condividere un altro momento positivo e soprattutto per attirare ancora di più il pubblico giovanile. La stessa facoltà di ingegneria domani ha dato libertà a professori e studenti di partecipare tutti all'intero convegno. Ci sono le elezioni che ormai sappiamo sono obbligatorie, questo è un altro gesto molto positivo, quindi speriamo che la positività sprizzi da tutti i pochi. Siamo in conclusione, è il momento a Roma dei professori bocconiani, però l'ingegnere che dice a Melbourne e in Canada, dice che mi sono laureato in Italia, dove a Genova è una moneta spendibile. La stessa lista di partecipanti come relatori è significativa, moltissime persone chiave, leader di aziende nazionali e internazionali sono ingegneri genovesi, quindi sono i dati che parlano, non parole. Bene, bene, vedete amici, vi suggerisco se avete motivo di passare domani a Palazzo Ducale di assistere a questo incontro che ci proietta e fa capire veramente al mondo quanto sia stato importante questo corso di studio tutto il giorno, questa nostra università, tutto il giorno. Quindi complimenti quando si fa qualche cosa di rilevanza internazionale, noi siamo i primi a dirlo, a sottolinearlo, a evidenziarlo, perché ne vale veramente la pena. Complimenti naturalmente per i suoi studi, per il suo lavoro, a lei e ai suoi colleghi. Grazie per l'attenzione, ricordate quindi Ingenium Palazzo Ducale a Genova domani. Noi, insomma, sempre sulla notizia vogliamo anticipare queste belle cose. Grazie ingegnere, regia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.